Ben ritrovati dunque, rieccoci se così si può dire. Gente di Mare riparte il nostro consueto appuntamento dedicato al turismo qui su TPN. Ancora una volta per voi una rubrica dedicata alla prima industria turistica regionale, ma lo sappiamo bene anche nazionale. Gente di Mare nasce l'anno scorso come un progetto legato allo sviluppo delle peculiarità della nostra costa e quest'anno qui su TPN riproponiamo ancora una volta questo approfondimento, ma cercando di valorizzare insomma maggiormente quelle che sono le varie specificità della nostra realtà, spostandoci anche nella vicina Friuli Venezia Giulia, nella vicina regione del Friuli Venezia Giulia, perché lo sappiamo il 2017 è l'anno domini, è l'anno dove parte di fatto questo progetto dell'Alto Adriatico che da un certo punto di vista sarà precursore negli anni a venire di quello che è ovviamente un obiettivo, quello di far crescere a livello esponenziale il nostro turismo. Ebbene noi di Gente di Mare abbiamo voluto cogliere questa occasione nel corso delle nostre puntate che da qui poi si ripeteranno a tutti i venerdì, sempre in prima solata su TPN il venerdì sera, riproporremo ovviamente queste tematiche anche grazie alla presenza in studio di importantissimi ospiti che ci daranno insomma una mano in questo bel percorso, davvero un bel percorso che ci ha regalato tante emozioni nella scorsa edizione e che tanto ci darà anche in questa nuova edizione. Dopo questo brevissimo preambolo che era doveroso ovviamente vi presento subito i nostri ospiti dando il ben ritrovato e un grazie ovviamente per essere in nostra compagnia. Buonasera Massimo Zanone, presidente regionale della ConfCommercio, buonasera e ben ritrovato. Con noi anche Luca Michelutto, presidente di ASVO SPA, l'azienda che si occupa della raccolta e conferimento dei rifiuti negli 11 comuni del mandamento portoguarese, ma ovviamente anche per quanto concerne le spiagge, insomma poi approfondiremo il tema. Con noi anche Marco Colbertaldo, un professionista esperto di sicurezza che ci permetterà anche di addentrarci, cose che non abbiamo fatto nella scorsa edizione, anche nei meandri relativi alla sicurezza perché si parla di estate, si parla di turismo, ma si parla anche di sicurezza e siamo all'avanguardia anche in questo e cercheremo insomma di approfondire il tutto. Poi ci raggiungerà nel corso della trasmissione anche un quarto ospite che attendiamo, un imprenditore che ci farà insomma capire qual è l'aria che tira in questa estate che ormai ha iniziata a tutti gli effetti e ci si attende ovviamente anche per quest'anno il tutto esaurito. Massimo Zanone, partiamo da lei. Ci si attende il tutto esaurito perché? Perché le previsioni sono più che ottimistiche. Si parla di un più 6% rispetto al 2016, stiamo parlando di un'industria che ogni anno fa 17 miliardi di euro, insomma sono numeri importanti e il Veneto ancora una volta è pronto per essere protagonista. Non c'è dubbio che in fase di quella che può essere la voglia di un'annata che deve ancora iniziare è meglio lanciare dei segni di ottimismo che continuare sempre a piangere su situazioni che magari non hanno ancora avuto grossa soddisfazione. Io penso che più che sull'aumento delle presenze bisogna giocare sulla migliore qualificazione delle presenze in modo che il 6% sia possibile raggiunto, un numero che prendiamo a caso ma comunque potrebbe essere accentrato perché c'è un valore aggiunto che arriva nei nostri territori piuttosto che continuare solo ad avere una statistica che parla dei milioni di presenze, ma sappiamo che una buonissima parte di queste sono presenze minime, che sono più impattanti se pensiamo alle nostre realtà che sono anche abbastanza fragili, dove l'ambiente è ancora una delle principali nostre caratteristiche, dove la storia la pensiamo legata a Caorle, ma ormai parlando di un territorio molto più vasto, grado non è da meno, è sicuramente il tentativo che deve essere fatto da parte di tutti di avere un turismo che faccia meno mordi e fuggi e questo non è facile e che possa essere che abbia esigenze di un turismo un momentino più qualificato in modo che si va a stimolare le imprese, si va a stimolare i servizi, si va a stimolare il tutto. I numeri fine a se stessi potrebbero essere giocati anche su qualche ruota, non sono il vero indicatore. Effettivamente, come dice giustamente il Presidente Michelutto, sì, c'è il numero, è chiaro che ci si attende tutti una grande stagione perché la Costa Veneta friulana, perché ormai si ragiona così, da Porto Viro fino a Trieste, questo è il grande obiettivo che è stato prefissato, è pronta da un certo punto di vista a fare questo salto di qualità. È chiaro che la sfida da accogliere è grande anche perché ci guarda il mercato internazionale, questo è il caso di dirlo. È pronto secondo lei il territorio? Sì, il territorio è pronto, imprenditorialmente pronto, le missioni comunali sono pronte, per quanto ci riguarda noi il nostro obiettivo è far trovare ai turisti un ambiente pulito, un ambiente sano, un ambiente vivibile, questo è l'obiettivo della nostra azienda, di Asvo, è che con impegno affronta la stagione sia a Bibione che a Carlo, che sono le due spiagge dove noi da anni affrontiamo l'impegno dell'igiene urbana e cogliendo e raccogliendo rifiuti per circa 10 milioni di turisti, che non sono pochi. Non sono pochi. Ricordo sempre che Bibione e Caorle, da comuni piccoli, perché comunque sono comuni relativamente piccoli, diventano città medio-grandi durante il periodo estivo, dunque con tutti i problemi di impatto ambientale che hanno queste forti presenze, eppure noi cerchiamo di portare una rivoluzionaria ondata di differenziata, raccolta differenziata, che ad esempio fino a 10 anni fa non era pensabile. E anche questo è un valore aggiunto che si dà al turista. Adesso il turista che viene, soprattutto quello che viene da territori della Nord Italia, dove già sono altre raccolte differenziate, o territori tipo paesi della Germania, l'Austria, ma anche la Danimarca, l'Olanda, chiedono molto che ci sia un fondamentale rispetto per l'ambiente. Ed è importante, ad esempio, che queste due spiagge, Bibione e Caorle, in modo particolare, abbiano ottenuto la bandiera blu, un risultato importante, dunque una conferma, ma che Bibione sia una spiaggia certificata EMAS, che Caorle abbia intrapreso da anni, un percorso ambientale in Agenda 21, però questo non basta, poi devi dare la dimostrazione concreta, e questo è un importante traguardo, cui sono chiamate le missioni comunali di Bibione e di Caorle, di San Michele per Bibione e di Caorle, e la nostra azienda. Come farlo questo? Coinvolgendo tutti gli attori, devono in questo lavoro lavorare, essere pronti, le associazioni delle categorie con i commercianti, con gli albergatori, con le inizioni immobiliari turistiche, il ministro di condominio, tutti i vari attori che fanno ambiente e che creano un miglioramento nell'ambiente. Perché, ripeto, è un valore aggiunto che diamo alla località turistica e al marchio, al brand turistico delle spiagge dell'Ato Adriatico. La valorizzazione ambientale e la cura verso l'ambiente, che va dalla decola differenziata al minore smog, all'interno delle piste delle aree pedonali e tutte queste cose qua che ormai sono all'avanguardia in ciali paesi. Poi ci torneremo ovviamente su questo aspetto perché è di prioritaria importanza. Noi di Gente di Mare, nella scorsa edizione, ma anche in questa odierna, cercheremo di capire quelli che sono gli aspetti fondamentali che hanno permesso anche a questo comparto di arrivare laddove è arrivato e quali sono le sfide che vorrà intercettare nel prossimo futuro. È chiaro che ci piace anche così immedesimarsi sulla bellezza della nostra costa, su che cosa trova il turista quando viene nelle nostre spiagge, su una vacanza che è diventata a misura di persona in tutti gli effetti. Insomma, c'è la possibilità di divertirsi per il giovane, per la famiglia, per i bimbi. Insomma, una spiaggia a misura di animali. Ormai siamo ovviamente all'altezza mondiale, questo lo dicono i numeri, non lo diciamo certamente noi. In questa nostra prima puntata abbiamo voluto anche cercare di dare qualcosa in più e poi ve ne accorgerete anche nel corso delle successive puntate, anche cercando di capire l'importanza per il turista di avere un luogo di vacanza sicura. Noi abbiamo un esperto di sicurezza, abbiamo voluto invitare Marco Colbertaldo, che è in questo senso uno studioso del settore, oltre ad essere un professionista che si documenta anche relativamente alle nostre spiagge, la nostra fortuna avere delle spiagge sicure, questo è in dubbio, grazie anche all'operato, questo bisogna sempre ricordarlo delle forze dell'ordine, ma insomma è chiaro che la sicurezza deve essere in primis. Ecco, secondo lei Colbertaldo, come si può migliorare per una località turistica o per un brand come quello dell'alto adriatico, il comparto della sicurezza? Diciamo allora, è possibile sempre in meglio, attualmente diciamo è buono il livello, è il senso stesso. Ecco, tuttavia è sempre bene dire, è importante incrementare il numero di effettivi, anche privati, ok? O private security, ovvero operatori privati della sicurezza, in quanto ormai le forze nostre, l'ordine, sono abbastanza impegnate, i uomini sono abbastanza non sempre sufficienti, anche se molto bravi ed efficienti, a Caorle, esempio, a Bibione, a Iesolo, sono veramente bravi. Tuttavia è bene, o sarebbe bene, assumere anche dei privati. Quindi puntare su dei servizi che possano interfacciare. Professionali però, in quanto, posso dire, questo è una piccola pecca italiana, abbiamo un livello un po' basso nel settore privato o private security, quindi è importante sempre andare su sempre il top. Certo. Ha un costo questo, e quindi... Però, giustamente, se bisogna dare... È auspicabile di investire bene, investire. E quindi dopo, guardate, siamo tutti più sicuri, altrimenti se noi si investe poco, è così. Il servizio è sempre inferiore. Poi ci torneremo, ovviamente. Senz'altro. Zanon, siamo nel weekend dell'ascensione, questo che di fatto si è inaugurato proprio in queste ore. Di fatto le località, della verità, sono pronte già da diverse settimane. Ecco, secondo lei questa può essere davvero la stagione della consacrazione per la costa veneziana. Già l'anno scorso è stata l'estate dei record. Lei diceva bene, prima il più 6% deve essere confermato. I numeri sono numeri e bisogna cercare di riproporli. Però, insomma, è stato fatto, rispetto a qualche anno fa, quel salto di qualità che le imprese, che i commercianti, che le attività si attendevano e si attendono? Io trovo sia scorretto, ma in senso buono, perché lo capisco come viene espresso, non è sicuramente una nota negativa. Pensare che si possa fare straordinariamente meglio quando già negli anni precedenti si era fatto discretamente bene. La verità è che in qualsiasi azienda, in qualsiasi località lo stanno sempre di più percependo non solamente gli operatori, ma anche chi governa le nostre località, che bisogna esprimere qualcosa di diverso per lanciare un prodotto che, essendo già riconosciuto tra i più qualificati in Europa, stiamo parlando del mare, stiamo parlando che i territori nostri sono, insieme a Rimini, quelli che già hanno i maggiori successi, non da oggi, ma come minimo da vent'anni. Però sono successi che ogni anno deve riconquistare, non sono certi, non puoi vivere di gloria. Quindi il vero tentativo è proporre qualcosa di nuovo, cercare di proporlo in maniera molto più ampia, perché i costi che si devono sopportare per nuove imprese, per nuove iniziative, che possono essere servizi, possono essere occasioni di svago, possono essere occasioni per cercare di vivere di più l'area aperta, perché poi l'altro aspetto è questo. Se si vuole avere una spiaggia che si possa operare bene, non può essere solo fatto baldoria, ci devono essere dei spazi dove uno può passare la sua vacanza senza essere troppo in una continua serata di gran gala. E per fare questo è evidente che si deve ampliare lo spazio, nello stesso tempo anche si deve lavorare tutti insieme, perché le risorse non sono sicuramente da un punto di vista delle capacità di spesa le stesse di chi può operare in altre aree dove la stagione lunga magari 8 o 10 mesi. Quindi noi da noi l'obiettivo di passare dai 4 ai 6 mesi, è un obiettivo che abbiamo penso tutti come minimo da 20 anni, allungare la stagione e proporre all'interno di questi 180 giorni qualcosa in più potrebbe essere anche per portare nuove iniziative per fasce di clientela più interessata, magari non solamente al sole in sé, ma ad altre proposte. E questo lo penso sia possibile. Quindi in qualche modo abbellire quello che è già stato un ottimo risultato, metterci un fiocchetto su quello che in qualche modo potrebbe essere già una buona possibilità di partenza. Quindi non butterei quello che è stato fatto come una cosa qualsiasi, ripeterlo con qualche fioretto è sicuramente l'obiettivo che tutti ci diamo, sia agli operatori, sia a chi interessati ad altri aspetti, ma che comunque portano benefici alle nostre territorialità, perché poi non è solamente il mare, ma è tutto l'ambito dell'entroterra compreso. Michelutto, che cosa ne pensa di questo progetto dell'Alto Adriatico? Poi c'è stata anche la conferenza dei sindaci del litorale Veneto, che ha assunto un aspetto anche giuridico da un certo punto di vista ed anche di rappresentanza. Ma lei che conosce anche bene il territorio per il ruolo che ricopre, ma anche per l'esperienza da anni sulle spiagge. Che cosa ne pensa di questa costa unica che da Porto Viro arriva fino a Trieste? Sono tanti chilometri, lei si immagini una costa unica fatta di ombrelloni. Insomma, voglio dire, il progetto è ambizioso e forte, c'è da sperare che il territorio sia pronto, ma secondo noi lo è. No, il territorio è pronto ed è pronto da anni. Fa piacere sottolineare che la politica si accorge che si può fare questo. Noi faccio un esempio, gli operatori di Bibione sanno benissimo che operano in maniera complementare all'offerta turistica dell'Indiano. Chi viene a Bibione, soggiorna a Bibione, usa strutture e infrastrutture di Lignano e viceversa. C'è già una complementarietà. C'è un ponte che ci divide, un fiume che ci divide, ma in tre minuti da Bibione si è a Lignano, si usano locali di Lignano, negozi di Lignano, i lignanesi vengono a Bibione per altre cose, i turisti di Lignano. Dunque c'è già una complementarietà. Dunque porre in rete le spiagge dell'Alto Adriatico, così definiamole, è una conquista anche dal punto di vista politico, perché avremo più forza per fare quello che si chiama Spall System, cioè cercare anche di sensibilizzare, non dico i governi locali che già lo sono sensibilizzati, ma anche i governi nazionali, per dire un esempio. Una settimana fa è stato imparato il convegno sul casello di Alvisopoli. Lì c'erano operatori, c'erano politici, c'era una comunità che chiedeva infrastrutture. Lo sa bene Zanon, il nostro settore commercio e turismo non ha mai chiesto, da che esiste la storia di questa Repubblica qua, sovvenzioni, finanziamenti, casse integrazioni. Noi abbiamo sempre lavorato con le nostre capacità, col personale, con le nostre risorse. Quello che però chiediamo, lo sforzo che si chiede, che tutti insieme chiediamo, è che ci siano le infrastrutture però per lavorare. Le strutture, le infrastrutture, queste sì, ci devono essere. Sono di emanazione nazionale, perché ricordiamo che l'autostrada non è che decide il comune di San Michele, il comune di Caoro, il comune di Portogruaro o il comune di Lignano. Vengono decise in tavoli nazionali, nelle commissioni internazionali, nazionali, e di conseguenza, però ecco, questo mettere insieme gli operatori che già sono insieme, perché faccio un esempio, il sindacato interno del Balneari porta le spiagge da Porto Viro fino a Bibione, che è il sindacato del Balneari, sono i concessionari delle spiagge che vanno da Bibione fino a Porto Viro, e sono già insieme, fanno già spol system, fanno già una loro politica di convincimento per la classe politica, per ottenere delle giuste riconoscimenti. La macchina di moto. Dunque adesso che la politica diventi attore in questa importante messa di vita è un gran traguardo e secondo me è una giusta visione che si è fatta nel territorio. Spero che poi si concretizzi, perché dare dare già un imprimatur legislativo è una cosa importante, ed è quello che sta succedendo già con i sindaci della costa veneziana, è già un buon risultato. Lei è d'accordo con il casello di Alvisopoli? Certo. Lei Zanon? Assolutamente sì, siamo stati tra i primi a pensare che il casello poteva essere un aiuto per la qualità di Bibione. Poi ci sono altri motivi che potrebbero non essere per noi assolutamente altrettanto validi, ma non è questo il caso. Per Bibione va bene. Col Bertaldo, abbiamo toccato da un certo punto di vista quelli che sono i vari aspetti relativi a questo progetto dell'Alto Adriatico. A noi ci piace sempre pensare alla quotidianità in spiaggia, alla mamma che porta il bambino in spiaggia, alla famiglia, ed anche alle molteplici disattenzioni che talvolta possono esserci in qualsiasi atteggiamento. In spiaggia soprattutto. I furti, per esempio. I furti sono facilissimi in quanto siamo tutti quanti sbadati, tutti quanti in spiaggia, al mare, borsa là, aperta. Ecco, ci dia qualche consiglio, per esempio. Avere sempre uno fisso, altrimenti è facilissimo, guardi, il furto. Mi spiace, è solo colpa nostra. I ladri fanno bene, è colpa nostra. Cioè, guardi. C'è troppa disattenzione, dice lei. Guardi, ma troppa, sempre siamo tutti belli, contenti, così, euforici, poi via. E poi torni, accidenti, ho perso tutti i soldi. Per esempio, lasciare la borsetta sopra l'ombrellone. Lasciare aperta sull'ombrellone, mai sola. Sempre avere qualcuno, un parente, un amico, un vicino, mai sola. Altrimenti, guardi, i tempi sono bruttissimi. La gente ha fame e quindi ruba subito. Che poi mi viene in mente col Bertaldo, lei tra l'altro lo sa anche meglio di me, perché insomma è il suo lavoro, queste grandi isole pedonali, no? Michelutto parlava prima di località che si riempiono di centinaia di migliaia di persone. Sono straffollate, siamo stretti, basta un piccolo spuntone e perdo borsa e tutto quello che c'è. I documenti, un problema dopo quelli, a rifare i nuovi. Sempre bene chiusa, mai sempre così aperta come spesso io vedo, purtroppo così. E donne, anche giovanissime, tutta aperta, guardano là, si inchinano, uno viene e prende e porta via. Bisogna sempre stare vigili, sempre sempre di più, perché se no ora... Poi c'è anche il tema del commercio abusivo, per esempio, che purtroppo impazza. E' un bellissimo tema, il problema è solo se uno occorre sempre più forze. Ma chi quindi? Attingere anche ai famosi ausiliari del traffico, che sono tanto bravi a fare multe, mentre auspicabile usarli anche in strada per dare più un senso di sicurezza, vigilare invece che sempre, soltanto fare multe. Però magari non ha neanche il loro compito, ovviamente, però si potrebbe intervenire in questo senso. Si potrebbe farlo. Estendere i compiti, estendere il senso di sicurezza, apprezzabilissimo dopo dalla gente. E i turisti sono più contenti. Certo. E torna conto, è sempre presente. Bene, ci fermiamo un attimo per un break pubblicitario, poi ripartiamo. È arrivato anche un altro ospite, lo faremo accomodare. Restate con noi, gente di mare continua. Ripartiamo con il nostro giro, ovviamente, approfondendo le bellezze del nostro alto adriatico. A tra poco. Eccoci dunque, rientrati in studio, gente di mare continua. Diciamo che una vecchia canzone diceva, aggiungi un posto a tavola. Noi l'abbiamo presa, ovviamente, per buona. E diamo il ben trovato anche a Cristian Rampazzo, imprenditore del settore turistico. Già anche nostro volto noto, sempre di gente di mare, che ci ha raggiunto in studio come promesso. Ben ritrovato, Cristian. Buongiorno, buongiorno a tutti. E grazie per essere ovviamente con noi. Questa costa veneziana, questo grande progetto dell'alto adriatico, è una grande sfida anche per gli imprenditori. Lei fa impresa da anni. Come ha colto, in questo senso, l'idea di questa grande costa che arriva anche vicino al nostro figlio Venezia Giulia, che sta regalando dei buoni risultati anche in questo senso? Ecco, le imprese vedono questo obiettivo? Sicuramente sì. C'è la necessità oggi più che mai di fare rete, di fare rete di impresa, non solo sul settore degli albergatori o dei ristoratori, ma anche sul settore delle imprese, del commercio, della produzione. Perché poi, soprattutto nella fascia costiera della costa veneziana, in qualche modo, siamo un po' tutti collegati, perché il nostro core business è comunque il mare e la spiaggia. Attraverso questa grande opportunità che abbiamo, dobbiamo lavorare assieme, si parla molto di soggetto unico anche nel settore dell'arenile, e anche Iesolo, parlo della mia città, sta lavorando su questo per cercare di fare un sistema integrato, per poter competere a livello internazionale con i grandi big del settore. Quindi, a nostra volta, come imprese, ci stiamo organizzando per poter dare sempre un maggior servizio ed essere sempre più competitivi a livello internazionale con i nostri servizi, prodotti e soprattutto idee innovative. Assolutamente, anche perché poi ci torneremo voi come innovazione, non scherzate, nel senso che siete stati tra i pionieri dell'app per aprire, per esempio, gli ombrelloni, ma non solo. Poi ovviamente ci torneremo. Zanonni, il discorso che farà un pazzo è un discorso completo, perché la sfida è stata lanciata, il dado è stato tratto. Quello che vorrei chiedere a lei è, ogni località ha la sua specificità messa assieme, fanno un grande comparto, però è chiaro che anche il territorio, e lei prima citava l'entroterra, deve mettere a disposizione qualcosa. Ha parlato molto bene anche prima della mobilità e della viabilità. Ecco, stando a Monte, come si può, da un certo punto di vista, collegare nel miglior modo possibile questo grande territorio, non solo la costa, ma anche l'entroterra che ci sta attorno? Quello che è cambiato rispetto a qualche decina di anni fa è come il turista che viene nei territori nostri può trovare le informazioni. Prima si andava nei territori di residenza, quindi nei vari paesi europei, o in giro per la fioristica italiana, a proporre le varie località. Oggi questo non ha più senso, se non in un discorso così di immagine. Diventa quindi necessario qualificare la proposta, visto che poi uno da casa può, nell'arco di una giornata davanti a un computer, visitare quasi le singole stanze degli alberghi, per non dire degli appartamenti, per non dire di tutti i palazzi di interesse pubblico. Quindi è necessario che si immagini che un territorio come il nostro non può essere solamente il ritorale, ci deve essere l'entroterra e viceversa. L'entroterra è il biglietto da visita prima che si arrivi, poi a toccare le località dove si va a fare la vacanza tipicamente estiva. Ma io sono uno di quelli che continuo a dire che, siccome noi siamo 12 mesi all'anno attivi sui territori, le nostre località in maniera diversa per tipologia, ma comunque non più in maniera esclusiva di una piuttosto che un'altra, sono aperte 12 mesi all'anno. È l'occasione perché il turista, qualsiasi sia il mese, che viene a visitare le nostre aree, possa trovare sia l'interesse di andare sul mare, sia un'offerta che può essere legata ad altre motivazioni, l'agora alimentare, lo storico, la cultura, la musica, se pensiamo al portogruarese, sono occasioni che vanno a dare un valore aggiunto e finalmente mi sembra di capire che sempre di più in questa proposta non ci sono più territori che pensano di essere autosufficienti e dall'altra parte le risorse sono diverse. Una volta la politica regionale, ecco perché erano territori chiusi, metteva a disposizione abbastanza risorse, oggi le risorse sono in mano ai comuni in qualche caso e comunque agli operatori, sono sempre inferiori rispetto a quelle che servono e l'occasione quindi è smetterla di fare i campanilisti o gli egoisti perché magari si sta meglio dell'amico comune a fianco e giocare una partita di imprenditori non più da singoli operatori non molto illuminati. Michelutto, quando penso ad Asbo, mi viene sempre in mente ovviamente l'ambiente, la gestione del rifiuto, lei prima lo ha detto benissimo anche sul conferimento e la raccolta, ma mi viene in mente la spiaggia di Bibione, mi viene in mente la bandiera blu, ma mi viene in mente anche Bibione respira il mare, questa grandissima iniziativa che ogni anno consente di raccogliere milioni si può dire, io credo proprio di sì, di mozziconi di sigaretta che non vengono gettati nell'arenile. Ecco, da dove parte questo grande progetto e soprattutto quali sono le sfide per dare sempre di più ai nostri ospiti una spiaggia a misura di bambino, pulita e lontana da qualsiasi rifiuto? Beh, questa è stata un'idea vincente della Mezione Comunale di San Michele. L'idea è stata veramente vincente, ha chiesto a Asbo di elaborarla dal punto di vista comunicativo, ma l'idea è stata della Mezione Comunale ha avuto un impatto molto, molto importante perché non è stata solo un'idea campata così per ottenere una prima pagina di un giornale piuttosto che un'apertura di un Tg nazionale. La realtà è che poi è stata portata avanti con l'Organizzazione Mondiale della Sanità, è stata portata avanti con le associazioni che si battono sulla ricerca sul cancro. Dunque, aprendo gli aspetti anche di difficoltà e di costo che ha il fumo nella quotidianità, costo sociale ovviamente parlo. E poi, la cosa più che interessa a Asbo e che interessa a chi invece va a fare una vacanza a Vivione è che mentre un bambino gioca nella sabbia, mentre fa il buchetto non trova mozzicone di sigaretta. E abbiamo sottratto in questi tre anni quasi mezzo milione di mozziconi di sigaretta. Quasi mezzo milione di mozziconi di sigaretta. Questi mezzo milioni di mozziconi di sigaretta sarebbero andati in mare. La biodegradabilità di un mozziconi di sigaretta non è di pochi giorni, ma ha degli involucri per cui ci vuole tempo e con delle sostanze chimiche purtroppo, ecco perché il fumo fa male, che sono il filtro che dunque creano anche inquinamento, ma anche il fatto che un'altra parte sarebbe rimasta nell'arenile, perché chissà. Allora il diveto di fumo ha avuto una percezione salutistica e diciamo ideologicamente fortemente impattante sulla prima spaggia in Italia dove si veta il fumo. Di fatto, in realtà, non c'è che la spaggia di Vivione, la spaggia di Vieti. dal primo ombrellone, vista la fortuna che ha l'arenile di Vivione, questa profondità dell'arenile, dal primo ombrellone alla battigia, compresi all'interno del mare, è evitato fumare. Dal primo ombrellone. Negli ombrelloni si può fumare. Chiaro. Adesso sta anche pensando, un po' di operatori e di questo anche in concerto con la Vivione Spiaggia che è l'azienda pubblico-privata che gestisce la maggior parte dell'arenile di Vivione, sta pensando addirittura a dei settori no smoke, che in questo paese è importante, anche sotto l'imbrellone non fumare. Allora, al di là dell'impatto, ripeto, salutistico, poi c'è l'impatto della pulizia della spiaggia, cioè la pulizia della spiaggia dove gli operatori della Vivione Spiaggia SRL piuttosto che della Vivione Mare SRL che lavorano e gestiscono circa 9 milioni di 9 mila 9 mila metri 9 chilometri 9 chilometri di diarenile e tengono pulita la spiaggia e queste sigarette le abbiamo messe idealmente in un lo abbiamo chiamato mozzicometro ed è un cilindro in plexiglass dove si vedono proprio le sigarette raccolte e uno si rende conto man mano comincia la stagione quante sigarette vengono sottratte. Ed è un'operazione mediatica importante perché il turista nota questa sensibilità che si ha verso loro, verso l'ospite poche settimane fa a Vivione si è fatto un convegno dove c'erano i due assessori regionali che parlavano di turismo come sappiamo ed uno degli aspetti che è emerso in un sondaggio fatto nelle due spiagge per alcuni turisti è spiagge poco eco-friendly vedete come dicevo prima la bandiera blu i riconoscimenti EMA sono importanti ma se poi non ci sono dei fatti tangibili nel territorio che danno questa idea di pulizia di salvaguardia di salvaguardia dell'ambiente il turista vuole questo il turista pretende questo ecco perché ASVO e io ringrazio il missione comunale ha avuto in carico di seguire la parte mediatica comunicativa di questa campagna che ripeteremo anche per il 2017 anzi fra poche settimane usciranno tutte le opuscoli per informare il turista di questa novità importante avete capito bene? mezzo milione di mozziconi di sigarette in tre anni è un risultato davvero incredibile Marco Colbertaldo spiaggia divertimento ci sono anche tante discoteche ovviamente nel nostro territorio è un'offerta turistica anche questa ottima offerta ottima offerta però il pericolo può essere essere vigili discoteca un problema c'è i bar anche droga da stupro e cos'è? è la novità dell'estate negativa ovviamente ottime novità negativa ottime sostanze acido gum e acido idrossibutirico cosa creano? in forma liquida bevi discoteca arrivo io verso due semplici gocce le bicchiere tuo sei otto dunque dunque minuti circa inizi avere affanni e poi hai intensissimi voglie sessuali il passante ti porta via accompagnandoti fuori per darti diciamo una mano e tu hai un'intensa voglia sessuale il consiglio è qual'è? non ricordi niente e vieni stuprata in modo attivo in quanto tu sei vittima hai voglia sessuale molto forte il cervello però si spegne la memoria si spegne non puoi ricordare niente salvo alcuni frammenti il consiglio qual'è per chi va in discoteca? vigilare sempre su i tuoi bicchieri non lasciare mai i bicchieri mai lasciarli mai perché perché ascolti è un attimo arrivo io faccio così 6-8 così tu subito inizi a sentirti strana esci fuori accompagnata fuori da giustamente ma che bravo ragazzo che mi accompagna fuori in realtà mi sento stuprata l'insidia dietro l'angolo e non ricorderai niente ma niente bene 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 fa sempre la droga da stupro piacere ovviamente anche in questo senso il consiglio no il consiglio sempre stare cauti vigilare sempre dov'è il mio bicchiere sempre là bene parliamo di cose un po' più positive anche se è giusto ovviamente mettere sempre in guardia tutti chiaramente sempre in guardia guai a passare la guardia Cristian Rampazzo tecnologia nella nostra costa innovazione applicazioni turismo sempre più tecnologico il turista vuole la tecnologia vuole anche l'ambiente vuole le piste ciclabili vuole insomma una località sicura l'abbiamo sentito ed anche è sempre al passo con i tempi lei che conosce tutto il settore relativo insomma anche all'ingegneria turistica dove stiamo andando e in questo senso quale può essere la novità di quest'estate 2017 le novità ce ne sono diverse ma mi soffermerei prevalentemente su una che è la possibilità di utilizzare energia del sole per aprire gli ombrelloni è un progetto che è già partito in maniera importante lo scorso anno quest'anno c'è il completamento di uno stabilimento balneare allo stabilimento Manzoni sempre a Iesolo grazie alla commessa che ci ha dato il presidente il dottor Dezzotti che ci ha consentito di automatizzare 1850 ombrelloni di tutto il suo renile ed è un effetto veramente incredibile ombrelloni che si alimentano con il sole attraverso un pannello fotovoltaico che dà energia ad un argano elettromeccanico gli ombrelloni possono essere pilotati con un telecomando divisi anche per settori si possono aprire singolarmente per file per righe oppure tutti assieme e la novità anche di quest'anno è l'abbiamo inserito anche l'app sul telefonino quindi possiamo anche dotare il singolo utente per chi lo voglia utilizzare anche il servizio direttamente dal telefonino la cosa bella è che alla mattina tutti questi ombrelloni che si aprono assieme come dei fiori proprio richiamano i turisti proprio a venire proprio nelle prime ore del mattino in spiaggia a gustarsi questo questo è veramente toccante momento di apertura degli ombrelloni che da anche questa promozione vi invito anche a essere presenti all'inaugurazione che sarà il sabato 3 giugno alle 11 per il suo stabilimento quindi è veramente un'esperienza nuova aggiungo Alessio che comunque questo tipo di invenzione questo tipo di automazione progetto sta in linea anche con le richieste che la direttiva Bolkenstein fa per poter dare maggiori punteggi anche agli stabilimenti nel caso in cui si andrà in gara quindi noi ci siamo siamo presenti diamo anche supporto in tutte le nuove tecnologie per dotare gli stabilimenti appunto delle modernità che oggi il mondo ci chiede ha sentito Zanon ombrelloni che si aprono con la luce del sole beh questo è il futuro poi Rampazzo citava Bolkenstein questa direttiva sul rinnovo delle concessioni dei maniali che immagino lei conosce molto bene c'è una sfida che sta arrivando per quel settore là anche se per esempio Bibione ha già risolto il problema è chiaro che quando si parla di tecnologia e di avanguardia siamo molto presenti e molto forti anche in questo io ho l'impressione che sui nostri allenieri se riusciamo a ragionare tra piccoli e grandi stabilimenti perché poi la realtà è così composta e giochiamo una partita che non è più quella dello speculare magari lo sdraio cosa che non succede già da parecchi anni o l'ombrellone che è già vetusto e si vada verso queste aperture sicuramente sarà sempre più difficile immaginare che qualcuno ti venga a correre dietro per toglierti il tuo stabilimento ma che nel frattempo al livello di Bolkestan ci sono mille battaglie per cercare di cambiare quella che era stata una miopia da parte della politica italiana rispetto alla difesa da farsi in Europa dall'altra parte è anche vero che spesso e volte essendo sempre accusati che chi ha la renile paga troppo poco forse bisognerà trovare un compromesso evitando quindi di andare a far le gare andare a far le aste ma magari dando qualche segnale diverso una cosa comunque è certa andare in spiaggia oggi bisogna che ci sia un comfort e queste iniziative che si aggiungono ad altre che negli ultimi anni sono in continua evoluzione fanno sì che andare in spiaggia si possa andare facendo capire la differenza che c'è tra chi vuol portarci la sciogamano da casa e chi spende dei soldi ma sono dei soldi spesi bene perché non c'è dubbio che nessuno oggi può spendere solo esclusivamente per avere degli obblighi deve avere anche dei comfort Michelutto che cosa mette in campo Asvo durante i mesi estivi nelle località di sua competenza a livello proprio di mano d'opera di mezzi di forza lavoro noi rinforziamo le due spiagge circa con 40 mezzi nuovi che noi prendiamo a noleggio ogni anno per questi 4 mesi importanti e il personale viene rimpinguato di circa 50 unità tra il cantiere di Caoro e il cantiere di Bibione cosa importante invece che tengo a precisare è il coinvolgimento che in questi anni si cerca di fare degli operatori commerciali degli operatori turistici ma anche dei proprietari di seconde case quest'anno per la prima volta usando il canale degli amministratori di condominio sia Bibione che Caorle ai proprietari di seconde case che non sono turisti in realtà c'è coloro che vengono già la casa però usano Bibione usano Caorle arriverà spedito insieme con la classica convocazione dell'assemblea condominiale o del villaggio dove loro hanno la casa uno puscolletto dove viene spiegata la raccolta differenziata viene spiegata che la raccolta differenziata è un obbligo di legge che ci sono anche possibilità di sanzioni se non viene fatta che non è più un accordo che si vuole fare o si fa meno si deve fare per tenere l'ambiente pulito ricordo che Bibione comunque con il sommo di tagliamento con oltre 6 milioni di presenze superiamo il 55% di raccolta differenziata che non è un risultato negativo assolutamente certo se per un altro portogruaro che fa quasi l'80% o cintocomaggiore che arriva l'85% ma capiamo che sono due realtà urbanistiche morfologiche completamente diverse insomma e Caorle siamo vicini al 50% tra l'altro con Caorle stiamo predisponendo un piano di un piano chiamiamolo così più 20 punti perché pensiamo che in pochi anni si possa aumentare notevolmente la differenziata con degli interventi che vengono fatti sul territorio la differenza fra Bione e Caorle è che Caorle non solo è turistica ma è una città che ha vivuto l'anno Caorle e dunque convivono nel stesso territorio gli abitanti di Caorle dunque i residenti cosiddetti e anche i turisti non sono invece le zone come Bione dove ad esempio i Bibionesi quei pochi che ci sono sono in un'area ben circoscritta che si chiama urbanisticamente area di residenti stabili insomma Caorle sono dappertutto i residenti dunque lì con l'organizzazione comunale abbiamo pensato che da ottobre 2017 cominceremo un porta a porta totale totale in alcuni rioni di Caorle pensiamo di ottenere dei buoni risultati e così facendo ripeto sono dati che poi vengono apprezzati dal turista dunque venga vista questa operazione dagli operatori che so che spesso ha difficoltà a fare la differenziata certo dagli operatori commerciali dagli operatori turistici dagli albergatori ma dai cittadini venga vista positivamente perché ripeto l'ambiente venduto in maniera importante un ambiente pulito un ambiente sano è un brand di forte attrazione per i mercati dove si rivolge le nostre spiagge l'abbiamo detto prima l'hanno detto prima i miei colleghi che sono qui stasera con me vendiamo sole e mare vendiamo anche entroterra un grande entroterra io ricordo che nel Deppland di Bibione si sfoglia si trova Aquileia si trova Portogruaro si trova Concordia Sicitaria perché si invita anche il turista a vedere cosa c'è alle spalle di Bibione e di Caorle però tanto è importante il marchio dell'ambiente perché è quello che in termini molto positivi i turisti soprattutto di una certa area cercano oggi come oggi cioè che sia un ambiente preservato tra l'altro sono due spiagge Bibione e Caorle dove noi lavoriamo che urbanisticamente non hanno avuto degli impatti negativi si è costruito si è fatto ma si è tenuto forti pregi ambientali ricordo la Vallesina Valgrande per Bibione la Brussa per Caorle un esempio insomma la Brussa è un'area incontaminata che è stata tolta dalla speculazione turistica però si convive si può andare a vederla ed è una bellissima località mirata in tutta Europa Colbertaldo torniamo a parlare di sicurezza ma anche di trasporti da un certo punto di vista perché tanti turisti ci raggiungono dagli aeroporti poi ci sono i mezzi di comunicazione che arrivano alle spiagge ci sono dei grandi lavori anche di intelligence da un certo punto di vista molto intensi grazie alle nostre forze dell'ordine lei se potesse insomma dare da un certo punto di vista una chiave di lettura su che cosa punterebbe? aeroporti sicuri Ronchi grazie a te sera molto sicuri all'interno pochi sanno esiste un ufficio che è sempre dico sempre in contatto con Roma e per Roma intendo intelligence è super informato ok? poi anche sempre dico sempre ci sono due o più agenti in borghese del SIS cioè servizi segreti italiani che sempre viaggiano a Ronchi e Tessera quindi dal certo di stare noi sempre sicuri e controllo non tutti noi quindi diciamo sono sicuri i rapporti italiani sono ben diciamo sotto controllo abbiamo va bene ottimi servizi intelligence dentro ai nostri aeroporti ovviamente lei che è l'esperto è molto informato perché sono stato anche a Roma certo e quindi so tutte queste queste dinamiche so tutto abbastanza non tutte chiaro no però già diciamo che ci ha fornito più di qualche chicca in questa occasione noi ne prendiamo atto anche perché ci piace insomma anche raccontare cose nuove Cristian Rampazzo lei conosce bene non solo la costa vane tra friuliana ma anche ciò che accade al di là insomma le spiagge della Croazia tanto per fare un esempio che ci invidiano da un certo punto di vista perché riusciamo comunque ancora a mantenere un elevato standard di qualità ecco se lei dovesse guardare avanti di 10 o 15 anni parlando sempre di imprenditoria turistica che cosa vede una domanda importante credo che parlando di arenile sicuramente dobbiamo ripensare come già si sta facendo ma forse bisogna accelerare un po' bisogna ripensare un po' a tutto l'assetto dell'organizzazione degli arenili probabilmente anche e uniformarlo anche a livello un po' nazionale oggi siamo abbastanza un po' difformi tra una realtà turistica piuttosto che un'altra mi piacerebbe per esempio dare l'opportunità di vivere la spiaggia anche di notte sarebbe una bella sfida perché è una cosa bellissima poter dare al turista questo tipo di opportunità da un punto di vista di di organizzazione invece istituzionale naturalmente si entra in altre dinamiche forse un po' più politiche perché se guardiamo la vicina Croazia è cresciuta veramente tantissimo non solo la Croazia ma anche il Montenegro l'Albania ormai hanno delle spiagge delle realtà pur non avendo la spiaggia dorata come ce l'abbiamo noi hanno delle realtà che sono da invidiarsi grazie proprio al fatto alle politiche che hanno adottato in questi ultimi dieci anni e soprattutto anche alle diciamo così pressioni fiscali che magari sono di altro tenore da quelle parti rispetto alle nostre secondo me adesso faccio un piccolo accenno ma forse non è proprio di mia competenza insomma il nostro Stato non ha attenzione molto particolare su quelle che sono le necessità di tutte le imprese stagionali dobbiamo pensare che l'Italia che è una penisola ha tre quarti delle attività che hanno tutte a che fare con la stagione balneare e quindi ci sono poche flessibilità anche per esempio sul profilo dei contratti delle assunzioni in questo periodo tutti i nostri imprenditori sono chiamati a dover assumere personale per pochi mesi non ci sono delle flessibilità ci sono dei costi esasperati e questo mette in difficoltà in serie difficoltà ci dovrebbero essere dei sistemi molto più flessibili per gestire questo tipo di lavoro alcuni casi abbiamo anche la fortuna di avere la doppia stagionalità soprattutto nel Veneto la grande ricchezza è anche avere un'estate ma avere anche un inverno con le dolomiti con le nostre montagne che comunque ci sono tanti imprenditori che hanno l'albergo sia al mare che magari in montagna riescono in qualche modo però sono pochi casi la necessità è proprio quella di trovare dei strumenti flessibili che accompagnino l'impresa sarebbe bello che i nostri amministratori non dico tanto quelli locali che sanno bene questa tematica ma magari quelli nazionali potessero farsi qualche stagione nelle nostre spiagge a lavorare a capire che cosa significa a sudare a lavorare e capire cosa significa per l'imprenditore per dare il massimo del servizio al nostro turista che tendenzialmente è uno strugista anche straniero di dare il massimo significa che veramente tante volte essere anche sul filo del rischio del rischio legale perché per dare il massimo devi anche organizzarti per avere il pieno del personale e non ci sono strumenti che ti consentono insomma di gestirlo in maniera molto flessibile perché ci sono orari molto strampalati insomma dalla mattina alle 6 fino alla mezzanotte chiaro poi tra l'altro quando lei parla di impresa a me viene sempre in mente insomma anche l'impresa locale lei è una rappresentazione tangibile di impresa cresciute negli anni in questo caso a Ieser ma che si è poi sviluppata in tutto il Triveneto ed anche in contesti internazionali è l'espressione della realtà locale che opera in loco e che cresce in un momento economico di grande difficoltà anche in questo senso c'è un ricambio generazionale ed è bello vedere anche che aziende locali resistono investono e da un certo punto di vista fanno anche scuola ti dico che da un paio d'anni in questa parte abbiamo fatto partire un progetto abbiamo fatto la fusione di tre aziende leader del territorio sulle forniture alberghiere la mia l'azienda Hotel Market Iesolo ha costituito adesso un gruppo che si chiama CRC Group che ha messo assieme altre due realtà del territorio storiche e adesso che siamo in stagione siamo 20 dipendenti ma poi d'inverno dobbiamo ridurre parecchio questo tipo di numero abbiamo inventato una formula nuova che è un cash and carry professionale sul settore delle forniture alberghiere e della ristorazione e vedo che questo tipo di idea ci sta dando ragione perché l'aumento del lavoro che abbiamo è veramente notevole sarebbe bello riuscire a trovare una formula e qui magari invito magari anche chi è qui con me questa sera a ragionare sarebbe bello riuscire a fare programmazione programmazione degli acquisti perché non si può si parlava all'inizio non si può arrivare sempre così tra aprile e maggio a essere con nessuno e tutti hanno bisogno di tutto sì è che si fa fatica a fare programmazione perché d'inverno la gente non è abituata bisogna creare cultura cultura anche sui nostri fornitori sui nostri clienti perché la nostra dinamica è questa però se ci possiamo organizzare prima riusciamo a dare un servizio migliore alla clientela questo è un po' un monito che lancio insomma noi abbiamo purtroppo terminato il tempo a nostra disposizione ma accogliamo anche questo invito per approfondirlo le prossime le prossime volte beh che dire abbiamo parlato a più ampio respiro di quelle che sono le nostre grandi potenzialità ci sono novità in tematiche ambientali in tematiche della sicurezza c'è l'ombrellone che si apre con la forza del sole c'è l'obiettivo delle categorie di continuare a migliorarsi questa è anche gente di mare questa è anche insomma la sfida che lanciamo noi da questi da questi teleschermi per poter crescere per poter migliorare grazie ovviamente per essere stati con noi grazie ai miei ospiti Massimo Zanon grazie a voi del confcommercio regionale presidente regionale del Veneto grazie a Luca Michelutto grazie a voi esperto di sicurezza e consulenza ed anche grazie a Cristian Rampazzo imprenditore del settore turistico grazie per essere stato con noi ma grazie a voi tutti ovviamente per averci seguito so che l'anno scorso l'avete fatto davvero in maniera molto numerosa e molto sentita vi do appuntamento ovviamente a venerdì prossimo sempre qui sempre a TPN e sempre con la nostra gente di mare buona estate grazie a tutti